Sarà un martedì grasso per adulti e bambini nel centro storico Aretino con il Carnevale Day in piazza Sant'Agostino. Una giornata di festa organizzata dai commercianti in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio ed il patrocinio del comune di Arezzo. In piazza sbarcheranno anche il trenino dell'Orciolaia e le maschere dei figli di Bocco di Castiglion Fibocchi. L'evento prevede un doppio appuntamento, quello pomeridiano con i bambini e quello serale con musiche DJ set. Abbiamo fatto questa iniziativa che si svolge per l'ultimo di Carnevale, speriamo che tutta la gente, visto che si parla di un'iniziativa di Carnevale, tutta la gente possa venire in maschera, aspettiamo grandi e piccini ovviamente, poi si svolgerà il pomeriggio per i bambini, dalle 3.30 fino alle 6.30, poi dalle 7.00 in poi ci sarà un DJ set per tutti quanti, anche i più grandi, con Fabri Flake, e fino a mezzanotte faremo un po' di casotto. Anche i carnevali della provincia arriveranno qua? Sì, abbiamo invitato ovviamente il Carnevale dell'Orciolaia, il Carnevale dei figli di Bocco, ci faceva piacere avere anche loro qua perché fanno parte anche loro ormai della città di Arezzo e quindi speriamo che insieme a loro e insieme a tutta la gente di Arezzo riusciamo a fare un bel carnevale. Perché voi commercianti avete deciso di portare avanti questa iniziativa? Abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa innanzitutto perché questa piazza ha un po' di tempo che è stata un po' dimenticata dalle varie iniziative, quindi noi commercianti ci siamo rimboccati le maniche perché vogliamo che questa piazza faccia parte invece della città e delle iniziative della città. Abbiamo fatto tutto a spese nostre, è stato faticoso, però ce l'abbiamo fatta. Il risultato speriamo che domani sia quello che speriamo tutti noi commercianti e anche per la città sinceramente.